Commenta il fatto del giorno Paolo Possamai, direttore di Il Mattino di Padova. Oggi ho scelto di riflettere sulla vita complessa e avventurosa di Giuseppe Bottai. Della vita complessa e anche avventurosa di Giuseppe Bottai possiamo ricordare tanti elementi, in modo particolare abbiamo presente che fu tra i fondatori del fascismo fin dal 19. Possiamo ricordare naturalmente che ha ricoperto le più importanti cariche dello Stato, tra parentesi al di fuori del governo, ricordiamo che è stato anche presidente dell'Inps e che è stato ministro di due dicasteri particolarmente importanti come quello delle corporazioni e quindi lui è il padre della carta del lavoro e di un assetto del lavoro che è tipicamente italiano ancora oggi, pensiamo all'articolazione attraverso gli ordini professionali. Ma abbiamo anche presente che è stato ministro dell'educazione nazionale e per questa via ha diramato due importantissime leggi che sono sopravvissute fino al 1999 dedicate alla conservazione dei beni culturali. Dentro a questa biografia così intricata, così densa di episodi, occorre però sottolineare naturalmente in modo equanime pure gli elementi di negatività. Leggo una pagina dal diario di Ciano del 5 ottobre 1938. Gran consiglio, problema degli ebrei, parlano in favore Balbo, De Bono e Federzoni, gli altri contro. Soprattutto Bottai mi sorprende per la sua intransigenza, si oppone a qualsiasi attenuazione dei provvedimenti. Allora, come ministro dell'educazione nazionale è Bottai che applica le leggi razziali. È lui che espelle dai ranghi dell'università e della scuola italiana gli studenti e i docenti che appunto avevano un'altra religione e che in particolar modo erano ebrei. L'altra data fondamentale da tenere in conto naturalmente è quella del 25 luglio del 1943. Stiamo parlando del Gran consiglio, stiamo parlando dell'ordine del giorno grandi, stiamo parlando quindi di uno dei 17 gerarchi che decide la sfiducia di Mussolini. Bottai è tutto questo e come si coglie è un fascista, così come lo ha definito Paolo Miedi, atipico o se vogliamo critico. Certamente una figura che ha attraversato 20 anni di storia italiana impersonandone gli aspetti cupi e per la verità anche quelli di modernità.